Del corso mi è piaciuto lavorare insieme al gruppo e a tutti insieme e in effetti lavorare tutti insieme crea una grandissima energia e la tecnica che è già molto efficace sempre, la tecnica acquista ha una grande potenza e i risultati si possono sentire subito e si può stare molto bene e molto velocemente Questo corso lo consiglio a tutti e penso che porterò tutti i miei amici e i miei figli ad avere un'esperienza come questa perché credo che tutti abbiamo il diritto e il dovere di stare bene e di essere felici Mi porto un grande risveglio e una grande leggerezza sapere di aver lasciato andare delle cose che non servivano mi fa stare bene e mi dà una grande gioia Ciao Patrizia, ti voglio bene e ti abbraccio con tutto l'amore che posso